Si dice sempre, è una parola che a me non è che piace tanto, ma è un detto. Si dice che Partinico da sempre è stato fucina, fucina immaginate, no? È il laboratorio politico. Sapetevi che vi porto un esempio particolare. Vorrei partire io da Palermo per dirvi come funziona. Palermo ha qualcosa come 543 mila votanti, cioè meleone passato di votanti e alla fine i candidati a sindaco sono stati solo sei. Sei candidati a sindaco per 500 mila, 43 mila votanti. E' pur vero che poi a votare c'era la partita, vi ricordate, solo 227 mila, il 41%, ma questo è un dato. Nel 2018, Partinico su 28 mila, immaginate la differenza, 543 mila, su 28 mila 634 votanti, i candidati a sindaco sono stati ben otto, vi ricordate? Di cui tra le altre cose si vocifera che due di questi si vogliono riproporre. La seconda vota, la seconda vota, la seconda vota, ci tentano, così si dice, ci tentano. Ovviamente parliamo di Filippo Aiello, già candidato nel 2018, Di Pietro Rau, già candidato nel 2018, perché poi c'è stato anche De Luca, la Maria Grazia Motise, poi Gaetano Costanzo, Nobile, Mauro Nicolosi, Porcasi, insomma questi erano otto candidati a sindaco. Avete a pensare che forse stanno addirittura questi otto i suoi passati? Facciamo palazzo, perché non si sta aspettando, come si diceva, il 26, vedere cosa succede alle elezioni regionali per candidarsi, ma addirittura c'è il vecchio detto che piglia avanti, piglia per due voti, e quindi qualcuno incomincia già a uscire e mettersi in evidenza. Ovviamente non parliamo di Rau, che Rau è il candidato sindaco del primo giorno, quindi Rau, già candidato nel 2018, non ricordo se già candidato anche prima o qualche altra volta, diciamo alla sua esperienza di deputato nazionale, presidente del Consiglio e tanto altro ancora, si ripropone, e attenzione, si ripropone con una vista civica, quindi parliamo di civismo, se poi è una o sono due, ma a quanto pare dietro movimenti o partiti, dietro a Rau, non ce ne sono. Quindi Rau è il candidato allo stato attuale ufficiale, che domani si presenta alla popolazione, si presenta al pubblico, ai cappuccini. Fatta questa premessa di Rau, abbiamo il Giovia candidato. Il candidato Giovia è un candidato un po' confuso, perché un colpo l'abbiamo visto con un cuffaro, e quindi era il candidato di Cuffaro. Nato Colpo l'abbiamo visto abbracciato in questa slade, come si chiama slade, con un micchichè, quindi pensate, ora ha cominciato a vedere Forza Italia, che cosa c'è d'intra Forza Italia, che a Partinico dovrebbe essere il primo partito, quindi Giovia, dice lui, è candidato, e siamo a due, io mi scrivo perché poi per due punti sono due, Giovia candidato a quanto pare di micchichè. Perché dico di micchichè e non di altro? Perché c'è la novità di questa mattina, c'è la voce in giro che Diego Campione sia il candidato ufficiale della democrazia cristiana a Partinico. Quindi Diego Campione candidato sindaco. Questi sono sempre voci di corridoio, ma noi ci stiamo facendo i conti alla femminina, e siamo a sé. Finisce qui? Ma nemmeno per sogno. Perché? Perché già da ieri gira per le vie del Paese, dandosi per già certo candidato, il già sindaco di Partinico, facente parte della Costituente, quella Costituente che a mio parere si è già sfaldato, non c'è bisogno di aspettare perché si è già sfaldata, Giuseppino di Trapani. Giuseppino di Trapani, candidato sindaco a nome e per conto di chi, non si sa, ma si vota, attenzione, gioco c'è un po' di mnoggio, si vota, o meglio, il Giuseppino dovrebbe votare Tamaio. Ma abbiamo avuto modo di vedere all'inaugurazione di Fratelli d'Italia il figlio Vincenzo, il quale torna nella casa madre, cioè a destra, su Fratelli d'Italia. E non vorrei che questo giochetto, perché vedete, dopo c'è qualcosa che mi comincia attraverso la dichiarazione che ha fatto proprio l'onorevole Carolina Varchi a telegiato. Carolina Varchi dichiara, attenzione, quindi attenzione, guaito, Giuseppino di Trapani, io in Palermo ero candidato al sindaco, poi fece un passo relato e ovviamente ho avuto la ricompensa, la riconoscenza che aveva fatto il vice sindaco. Questo potrebbe succedere a Partenico. E allora si vocifera, e c'è tutto un paese chino, che è il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, attenzione, qui dobbiamo fare un'altra premessa prima, se la Melone, a livello nazionale, dice, guavo un motosopecchio, va a fare un presidente del Consiglio, guavo un motosopecchio, a Partenico potrebbe essere, che guavo un motosopecchio, va a fare un candidato sindaco, un motosopecchio a Partenico non lo prenderà sicuramente Fratelli d'Italia, ma lo prenderà Forza Italia, perché ci sono capati di ricursi a Rintra Forza Italia, o Primo Tamayo, Tamayo avesse arrivare proprio qua a Bannera, a Nemano, che ovviamente prenderanno non un voto, ma centinaia di voti in più rispetto a Fratelli d'Italia. E quindi potrebbero chiedere, a quel tavolo provinciale, che in tanti dicono che non è vero che c'è stato, la leadership e avere il candidato sindaco. E allora potrebbe essere Giuseppe Nude Tavani che è il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia poi si accontenterebbero della presidenza del Consiglio o della vice sindacatura, e c'è tutto il paesichino che ha il candidato, ieri non lo sappiano oggi, oggi tutti sanno che è Vanessa Costantino. E siamo a cinque. Giusto? Quindi, o tra l'entà, tra l'entà, c'è, o Giuseppe Nude Tavani, o Vanessa Costantino, o chi per lei, siamo a cinque candidati sindaco. E pensate che ha per niente dopo. Filippo Aiello, già candidato nel 2018, e si ripropone, ed è candidato, riciclido, a sindaco, ha l'appoggio di un'ampia aria, di quello che è la Costituente. C'è l'appoggio dell'ex sindaco Lombiondo, c'è l'appoggio di Albiolo, Maria Cazzia Potizzi, c'è un decido che c'è l'appoggio per il re Tamaio, e sono sei. Filippo Aiello, candidato, non farà un passo indietro se ha questo po' di gente dietro. Attenzione, tutti questi per ora hanno una lista, con la Nave Rui, con la Nave Mensa, insomma, i listi ce n'è a binere, tutte le liste hanno. Siamo a sei, ci volevo mettere, Caelasmo, Bricanò, ancora, un passo indietro non l'ha fatto, e non ci sono pervenute notizie del ritiro del figlio di Enzo Bricanò. ci mettevo pure sempre a condurre forse tale e sempre a condurre Tamaio. E sono sette, è un amo venuto, ci siamo a mettere uno di centro-sinistra, c'è stata la presentazione di Si Può, cui retendo che avrei che durò, insomma, Si Può, che dire che mi sarà così, che ovviamente non credo che si andranno ad alleare con uno di questi nomi che io ho già detto. per cui una volta che non si possono alleare per diversità di vedute, di Caccia e Forza Italia, Fratelli d'Italia, non penso che Rifondazione Comunista e Onno che ovviamente sono di sinistra si possono alleare con queste persone, per cui qualcuno vocifera che c'è pronto a scendere in campo Enzo Campo o qualche altro e siamo a otto. E' penio? No! C'è ancora l'incognita di Vito Di Marco il quale Vito Di Marco ha una lista e ha una lista che potrebbe o diciamo sempre con una poca di pezzi di Forza Italia vorrei ricordare che all'interno c'è Rizzo Puleo c'è Vito Italiano o si potrebbe alleare con qualcuno dipende come io ma oppure può essere che scende un campo pure io e su nome e buon altro politico non facciamo un tuo paro no allora per voi se per la maniera istituta se Giovia Mito Di Marco Campione Rao Giuseppe Nontri Trapani Aiello Enzo Campo Fratelli d'Italia Erasmo Bregano facciamo e ci mettiamo appena facciamo conto paro quindi immaginate la chiusura è questa Partenico Laboratorio Politico Fuscina 28.634 votanti sebbene confermato tutto questo Mbaradam 10 candidati Palermo 543.000 votanti 6 candidati a Sennaco e noi pregiamo a tutti un negli Partenico altro che Fuscina forne lezze quelle